L'Hurper temeva si trattasse del banale dovinamento di un marito di telefono. Qualcosa da bere? Maya di giuro. Credevo che fosse un detective. Un nuovo tipo. Ma Sanson era un miliardario e questo suggeriva altre ipotesi. È un rapimento, ho la letta. Cosa sai di lui? Nonostante certe toccanti confessioni, Harper faceva vatico a comune. Sì. L'acquotici? Non è esattamente un luogo. Ho detto prego. Paul Newman, gli occhi più belli di Hollywood. È mercoledì, su Rete 4. Paul Newman è Lou Harper, investigatore privato che conduce le sue indagini tra le colline miliardari della costa California. Con la classe un po' rubida di un Philip Marlowe ridificato. Detective Stone, mercoledì alle 20.30, su Rete 4. Ehi, voi, siete vivi? Sono stufo di sentirvi fare questa domanda. Una tipo, tanto amici. Una tipo, tanto amici, viene a te. Cinque amici, cinque porti, grande timo. Se va bene come sulla cassa, siamo in zona di stessa. E tiriamo sulla rete. A pranzo. Certo. Il prezzo è per chi non ha niente da fare. Ti faccio comprare la televisione e mi fa quanti pollici. Ti faccio. Ma che pollici? Miliardi. Benedetto figliolo. Ho comprato una televisione con tutti quelli che ci sono dentro. Ho comprato un network. Ma dai, rilassati. L'armonia è un gusto naturale. Amaretto di saranno. Decisamente contro chi fa finta di essere. Amaretto di saranno. L'armonia è in persona. Per avere un bel viso, fresco e protetto, tu hai sempre usato una buona crema. Hai fatto bene. Puoi fare meglio con Visavi. Due forze dall'azione combinata. Il benefico calore dei raggi nascerocchi e un delicato micro-usci. Ti muovi l'assorbimento della crema lasciando la tua pelle più ricca e idratata. Per avere subito un viso più bene. Visavi di bene e meglio. All'euro mercato il Natale è partito. Va gonfi e bene. E con i prezzi si tiene basso basso. Venite subito. Il Dio non c'è la coda. Siamo qui del Dio. Acqua Minerale San Benedetto. Sponsor dello Stare in Forno. Buonasera, bentrovati, buona settimana. Quando sarà concluso lo spettacolo che è ora in corso, arriveremo noi dal Teatro Paglioli. Una puntata curiosa, divertente, interessante. Parleremo di vita, di matrimoni e non. E' anche una storia particolarmente interessante. Quindi non cambiate canale e rimanete su canale 5. Non mi fare l'eco. Rimanete su canale 5, dopo. A presto. Grazie.